Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Nei due anni che separano Elemental dal successivo album, Elemental ricordo era l'esordio discografico di Lorena McKennett, di cui abbiamo già parlato in un precedente video, lascio il link più sotto in descrizione, la cantautrice canadese gestisce tutte le operazioni della sua neonata casa di produzione, Queenland Road, letteralmente dal tavolo della cucina, vendendo i propri dischi per corrispondenza e producendo in completa autonomia tutte le sue rare esibizioni dal vivo, per ora limitate al suo paese di origine. Contemporaneamente, Lorena porta avanti le sue esperienze di cantante e compositrice in colonne sonori di film e documentari canadesi. In questo periodo, infatti, scrive e arrangia le musiche per il lungometraggio Bayo ed è coordinatrice musicale della pellicola Samuel Launt. Nel 1985 è chiamata a rappresentare nuovamente il suo paese all'Expo in Giappone. L'anno successivo lavora invece all'opera Lily Alta per il festival teatrale canadese Blith Summer Festival. Nel 1987 arriva anche una piccola particina nella pellicola, sempre canadese, Heaven on Earth. Compone inoltre le musiche per il documentario To a Safer Place, prodotto dal National Field Board of Canada. È la prima di molte collaborazioni di Lorena con il governo canadese. Il 1987 è anche l'anno del suo secondo album in studio, To Drive the Cold Winter Away, composto principalmente da brani tradizionali inglesi, irlandesi e scozzesi, questa volta meno conosciuti di quelli incisi per Elemental e dai temi principalmente invernali e natalizi. I brani che lo compongono sono registrati in parte a Anag Macarig, nella contea di Monaghan, in Irlanda, in parte nell'abbazia benedettina di Glenstan, a Limerick, Irlanda, e in parte nella chiesa di Nostra Signora Gwelp in Ontario. La McKennit suona molti degli strumenti e regala altre composizioni inedite, tra cui la musica strumentale da corte Banquet Hall, suonata con l'arpa celtica, il pezzo per sola voce Stockford Carol e la ballata Snow, su testo del poeta canadese di fine ottocento Archibald Lempman. Più degli altri, Snow è sicuramente il brano che dimostra la raggiunta maturità della cantautrice canadese, a distanza di soli due anni dal suo esordio. È possibile ascoltare su questo canale una registrazione d'ambiente del brano sull'impianto Hi-Fi che utilizzo per gli ascolti a supporto dei video di questo canale. Lascio il link in alto a destra e in descrizione per i più curiosi. Ancora più essenziale e scarno di Elemental, l'album è registrato dal vivo con sovraincisioni su due sole tracce, in modo da porre ancora più al centro la figura artistica di Lorina, con la sua vocalità angelica e le sue sonorità eteree del pizzicato dell'arpa. Scrive così l'autrice nelle note che accompagnano l'edizione 2006 rimasterizzata, che è possibile ascoltare su Quobuz. Da bambina, la mia impressione più vivida della musica invernale è nata dalle canzoni e dagli inni registrati nelle chiese o nelle grandi sale, ricche della propria unica atmosfera e tradizione. In quello spirito, mi sono recata in vari luoghi simili, che ho imparato ad apprezzare nei miei viaggi. Gli arrangiamenti di questo album sono scarni, ma in qualche modo ho sentito che ciò rifletteva le dinamiche della stagione autunnale e invernale, e che in tale semplicità ci può essere molta bellezza. Dato che è registrato sul posto, potresti occasionalmente sentire suoni della vita che continua intorno a noi. Speriamo che questi non siano fonte di distrazione, ma che siano visti come grumi di paglia nel maglione di lana che tua nonna avrebbe potuto fare per tenere lontano il freddo inverno. To Drive the Cold Winter Away ha venduto ad oggi più di 84.000 copie, il 25% in più rispetto al precedente Elemental. Prima del 1989 ritroviamo Lorina nella produzione della piece St. Stephen's Green per l'Abbey Theatre di Dublino e nel cortometraggio Awake for Milton prodotto ancora dal National Film Board of Canada. Nel 1989 Lorina presta le sue nuove musiche anche al documentario canadese Goddess Remembered, primo film del National Film Board della trilogia Women and Spirituality. Questo primo documentario è un omaggio alle religioni antiche che adoravano il culto della Dea Madre. Il tema, che sarà ripreso dal movimento femminista, viene collegato alla crisi ambientale odierna, proponendo il ritorno ad un sistema di vita interconnesso nel rispetto per la terra e per la donna, entrambi fondamentali per la nostra sopravvivenza. Il tema principale del documentario sarà a sua volta ripreso da Lorina nel suo album successivo. Come in un gioco di parallelismi, rispetto ad Elemental e To Drive The Cold Winter Away, il terzo album in studio di Lorina McKennett è il primo con testi e musica composti quasi interamente dall'artista canadese, a meno di due traditional, N.K. Gordon e Standing Stones, comunque riletti in chiave World Music. È in questo album che Lorina realizza la sintesi perfetta tra tradizione e modernità, tra passato, presente e futuro, considerate anche quelle che saranno le sue produzioni successive. Parallel Dreams può essere considerato di fatto il suo vero primo album, nonché il punto di svolta della sua carriera. Il disco conserva ancora una forte connotazione celtica ed è ancora un po' discontinuo nelle sue composizioni, ma mostra anche, molto timidamente, aperture ad altre forme di folklore che diventeranno una caratteristica portante dei suoi futuri lavori e che porteranno di conseguenza alla definizione del suo genere musicale, così personale, come Eclettic Celtic. Ne è un chiaro esempio Huron Belton Fire Dance, magistrale fusione di sonorità celtiche e sonorità nativo-americane. Gli arrangiamenti, questa volta, sono più sofisticati. Le atmosfere oniriche anticipate dal titolo dell'album sono restituite dalla voce sopranile e dall'arpa di Lorina, meno in primo piano rispetto ad Elemental e To Drive The Cold Winter Away, per ovvie ragioni di maggiore complessità degli arrangiamenti. L'omaggio al passato della sua terra ispiratrice lo si ritrova in Dickens Dublin The Palace e in particolare nella figura di Kenzoniana per eccellenza, quella del povero orfanello sperduto nella gelida sera della vigilia di Natale alla ricerca di una casa dove stare. Un parallelismo religioso con la storia di Gesù e la sua capanna. Questo brano, centrale nella scaletta, introduce al meglio il tema dei sogni paralleli citati da Lorina nelle note di copertina dell'album, ossia quei sogni alla ricerca di amore, libertà ed integrazione. Temi che ritroviamo nell'album in coloro che auspicano la liberazione della terra dalla mano dell'uomo in Ancient Pines o in coloro che sognano la libertà dall'oppressione in Breaking the Silence. L'importanza di questi due brani prosegue oltre i solchi di quest'album. Ancient Pines diventerà il tema principale del primo documentario canadese della trilogia Women in Spirituality, quel Godness Remembered che abbiamo citato in precedenza. Mentre Breaking the Silence è l'omaggio dell'artista canadese ad Amnesty International, un unicum nel repertorio di Lorina e il vero capolavoro dell'album, nei suoi sei minuti e mezzo di ispirazione quasi pink floydiana. Parallel Dreams ha venduto ad oggi più di 93.000 copie, il 10% in più del precedente, rappresentando una tappa a miliare nella crescita artistica quanto spirituale di Lorina. Per chi non conoscesse quest'artista o fosse interessato a scoprire la qualità delle sue incisioni, può togliersi la curiosità con un estratto del primo brano dell'album, Semain Night, che ho registrato in ambiente con un recorder Tascam sull'impianto Hi-Fi che potete scoprire nella playlist dedicata a fine di questo video. Del prossimo contributo dedicato all'orina, esploreremo il suo primo capolavoro e disco d'oro The Visit. Anche per questo video è tutto, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.